Buongiorno a tutti ragazzi da PokerStarter3 in questo video vi porto una nuova apertura di Black & White Plasma Storm Elite Trainer Box bellissimo partiamo subito con l'apertura in questo box trovo un sacco di cose interessanti prima di tutto c'è questa copertura che si apre io adesso scusate, è diventato tutto bianco io adesso non vorrei romperla comunque dentro poi magari dopo l'apro con calma comunque poi c'è scusate la guida dove ci sono spiegate tutte penso, non so, le carte c'è l'elenco di tutte le carte con le varie spiegazioni, come si gioca i tornei, eccetera, eccetera molto carino e poi questa è la scatola porta porta carne togliamo queste cose di cartone che non ci interessano e dentro troviamo la scatolina porta deck di Plasma Storm per chi la volesse la do via, la regalo quindi chi la volesse basta che me lo dica e io la do poi troviamo questi segna punti segna danno e questo dado per giocare penso sia proprio adatto alla Lega tutte queste cose però andranno a Lord Aizen che mi ha chiesto e io non me ne faccio niente perché non gioco qui ci sono le carte energia di tutti i tipi anche queste a chi servissero o me lo chieda perché tanto io non le uso collezione basta quindi insomma basta dirlo basta chiedere e io do poi ci sono questi due segnalini in plastica che sono per l'avvelenamento e la scottatura anche questi saranno per Lord Aizen e poi ci sono sette pacchetti di Plasma Storm nei quali spero di trovare qualcosa di veramente bello vediamo se sono più fortunato appunto di Lord Aizen che non ha trovato praticamente niente allora direi di cominciare da Articuno spostiamo questa ok non riesco ad aprirli bene i codici direi che ve li regalo per sbloccare un po' di bustine di Plasma Storm eccolo qui uno due tre uno due allora c'è Elgem Siwadol Doduo Pancier Burloin Amungus Kirlia Maractus la reversa è un Monferno e la rara è un Garbodor Dertin Plasma niente di che per ora andiamo col pacchetto di Lugia sempre codice per voi uno due tre uno due abbiamo Cabchou Elgem Frillish Riolu Litwick Durant Deltin Plasma Solrock Coffing la reversa è un Rufflet e la rara è un Ludicolo Monferno mi piacerebbe tantissimo trovare Cobalion Full Heart o anche Charizard Shiny ma qua andiamo sul topico uno due tre uno due allora Swinab Scraggy Fungus Wismur Coffing Hypnotoxic Laser molto buona questa carta Etere Paios Wine Joltic Reverse e la rara è un Jelly Sand bene neanche una ma lo penso che riuscirò a fare peggio di Lord Dyson allora il codice per voi uno due tre uno due Trabbish Magnemite Lotad Swinab Scraggy Durante Magneton Swadlun oh che fortuna Scramble Switch Ace Pack bellissimo e la rara è un Dodrio ottimo 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 ottima carta codice per voi Zubat Carvana Patrat Trabbish Togipi Rotom Trabbish e Violite Hitmore Reverse e la rara è un Lucario Olu bellissimo gli ultimi due pacchetti Luglia Calice Magnemite Fempi Sarti Cuffin Ralse Energia del Team Plasma mi piacerebbe tantissimo trovarla a Reverse ma non c'ente da fare Golbat Kirlia Fungus Reverse e la rara è un Beartic ultimo pacchetto devo dire che non posso proprio lamentarmi perché ho trovato un Ace Pack codice 1,2,3 1,2 abbiamo Carvana Wismore Fungus Purline Swinab Durant Virbanc City Gym Lucario Condi Reverse e la rara un Mana Fiolo benissimo quindi due Olo adesso vado a recuperarlo Lucario dove l'ho messo eccolo qua benissimo quindi due Olo e questo Scramble Switch che scambio ragazzi quindi se vi serve fate offerte ciao ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti